Gestire i rifiuti mettendo insieme 103 comuni di territori che vanno dal mare all'Appennino, una sfida che SAI Toscana ha scelto di portare avanti dal primo gennaio dello scorso anno. Il primo bilancio del presidente Simone Vitti è segnato dalla fatica di uniformare sistemi e modalità di lavoro molto diversi l'uno dall'altro. Vi erano abitudini, consuetudini, metodi, politiche, strategie diverse sul servizio. Ovviamente queste cose vengono via via omogenizzate, raccordate ed unificate perché il senso e la funzione di un'azienda unica esiste solo se c'è un processo industriale che accentra e unifica le politiche e le strategie di un intero territorio. Il lavoro fatto in questo primo anno non sembra aver influito in modo positivo sulle bollette. Nonostante le economie di scala derivate dalla fusione di più gestori in SAI Toscana, i costi del servizio pesano ancora tanto sulle tasche dei cittadini. Il tema della tariffa e delle bollette non può e non deve certamente essere sottovalutato, anche perché siamo in un momento, in un contesto economico in cui sono comprensibili e ragionevoli tutte le difficoltà. Le tariffe medie di questo territorio sono comunque nella parte bassa della media del territorio nazionale. Un miglioramento sui costi di gestione ci sarà, ma ci sono investimenti da fare e le economie di scala al massimo eviteranno nuovi aumenti. Le economie di scala verranno sicuramente riassorbite in quota parte dall'incremento dei servizi. È chiaro che il primo anno è stato di ottimizzazione e di organizzazione. Adesso l'azienda c'è, è una sola, comincia a ragionare da una sola azienda e quindi credo che anche chi usufruisce del servizio vedrà presto dei risultati. Di recente anche il sindaco di Grosseto e altre amministrazioni comunali della provincia si sono lamentate del servizio svolto da Sei Toscana. Viti spiega che il servizio non è cambiato con il cambio del gestore, ma finito il rodaggio del primo anno saranno messi in cantiere dei miglioramenti. A valle del primo anno, verificata tutta una serie di problematiche, capito anche le difformità del territorio, perché è un territorio comunque estremamente vasto, dove ci sono zone turistiche invernali, turistiche estive, dove ci sono zone densamente abitate, zone con meno densità di cittadini. Quindi credo che ci sia la possibilità di a questo punto meglio lavorare su delle tematiche di miglioramento su tutti i problemi che i vari comuni via via hanno evidenziato.